Una vera e propria spedizione punitiva di cui gli inquirenti non conoscono ancora le motivazioni è quella che la sera dello scorso 11 agosto è stata messa in atto alla stazione di Pescia in provincia di Pistoia da parte di tre uomini che aggredirono con calci e pugni un quarantenne appena sceso dal treno. I tre albanesi sono stati identificati e arrestati dalla polizia. I primi due, un 19enne e un 27enne, fanno sapere gli investigatori, sono stati notati in un bar della stessa città mentre il terzo, un 26enne, è stato fermato a Firenze la notte del primo settembre scorso durante un controllo stradale. Il 19enne si trova ai domiciliari mentre gli altri due sono stati portati in carcere a Pistoia. Il quarantenne tunisino, residente in Val di Nievole, a seguito dell'aggressione, riportò la frattura scomposta della mascella e fu trasportato all'ospedale di Careggi di Firenze per un intervento chirurgico maxillofacciale con prognosi di almeno tre mesi.